Mentre in questa porzione di campo troviamo il gruppo di pulcini di mister Giulio Massimini. Sono suddivisi in due porzioni di campo, in questo gruppo hanno tutta la divisa ufficiale della società, il nostro mister Giulio dà i consigli ai propri ragazzi, pure qua c'è un altro gruppo sempre di pulcini, anche qua c'è un gruppo di pulcini, il 2008 però, c'è mister Nicola di Campli con quest'altro gruppo. Ecco i nostri ragazzini sotto gli ordini di mister Nicola di Campli, c'è questo gruppo di ragazzini più piccolini mi pare. Grazie a tutti.